Ciao a tutte, oggi un nuovo video recensione su due prodotti dei provenzali bio della linea bimbi di cui vi voglio parlare. Iniziamo subito. Il primo prodotto che vi mostra è questo latte detergente biologico, protettivo e extradolce, ideale per pulire e idratare. Sono 200 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Punto primo è che la linea dei provenzali bio non testa sugli animali, quindi ci piace. Poi di questo prodotto, in particolare del latte detergente biologico, vi porto la recensione di mia sorella perché lei ne ha provate 3 o 4 confezioni e quindi mi ha chiesto di parlarvene in un video e dire appunto la sua opinione. Lei ha una pelle secca e infatti lo consiglia per chi ha una pelle secca e molto secca, perché ha una consistenza cremosa ed è molto molto idratante, quindi è adatto proprio per quel tipo di pelle, quindi pelle secca. Ma io penso di provarlo anche se ho la pelle mista perché mi intriga veramente tantissimo. Allora, che dire di questo prodotto? Lei l'ha utilizzato per la pulizia del viso sia mattina che la sera e si è trovata veramente bene perché puliva in profondità, lasciava la pelle molto morbida, molto liscia e molto idratata. Infatti non aveva neanche bisogno di mettere un tonico e una crema idratante dopo averlo utilizzato. Ha un profumo molto molto delicato, sta proprio di bimbo appena nato, quindi è veramente un profumo molto lieve, non è un profumo aggressivo, quindi poi va via subito comunque dopo che vi siete lavati il viso e lei l'ha utilizzato anche come struccante e anche per quello scopo ha detto che è veramente ottimo perché strucca bene, tira via tutti i residui di trucco sia dagli occhi che dal viso e quindi anche per quello scopo è veramente ottimo e ha una consistenza cremosa, non so se ve l'avevo detto prima però nel caso ve lo ridico di nuovo. Quindi lei lo consiglia vivamente perché si è trovata veramente stra bene, quindi ottimo. Il prezzo è sulle 4,90 euro però ha comunque 200 ml di prodotto quindi la qualità e la quantità vale veramente il prezzo che costa. Poi l'altro prodotto di cui vi voglio parlare sono queste salviettine biologiche detergenti delicate con glicerina e olio di carité biologici. Non hanno all'interno SLS, SLS, PEG, PPG senza arcol, senza parabeni e profumo senza allergeni. Ci sono all'interno 64 salviettine e le ho provate anch'io e devo dire che mi sono trovata veramente stra bene. Hanno un profumo, guardate ve la faccio vedere qui, eccola, hanno un profumo veramente molto molto delicato, molto lieve e anche questo profumo comunque non resta assolutamente sul viso. Queste sono le salviettine, hanno una consistenza molto morbida, non sono per niente rubide e infatti sono molto molto resistenti, cioè non si sbaldano subito appena le tirate fuori dalla confezione e anche mentre vi struccate, quindi sono veramente molto molto resistenti e struccano veramente benissimo, sono molto delicate sugli occhi e anche sul viso, non irritano per niente nel viso, nel contorno occhi, perché io ho un contorno occhi secco e non me l'hanno arrossato né quello né gli occhi, che di solito con certe salviettine magari mi si arrossano gli occhi, invece con queste qui gli occhi non si sono arrossati neanche un po', quindi sono veramente delle ottime ottime salviettine e infatti dopo averle utilizzate per esempio non avevo neanche il bisogno di applicare un tonico, una crema idratante e di lavarmi il viso perché il viso appunto me lo sentivo veramente pulito, idratato al punto giusto e non me lo seccavano nemmeno un po', io avendo comunque la pelle mista e secca in certi punti non mi seccava assolutamente la pelle, quindi veramente ottimo. Quindi queste salviettine anche per chi ha la pelle mista e secca le consigliamo veramente tantissimo, quindi veramente ottime. E niente, che dire, ci siamo trovati veramente benissimo con questi due prodotti della linea dei Provenzali Bio per quanto riguarda appunto la linea Bimbi. Bene, fatemi sapere se magari avete provato anche voi questi due prodotti in questione, come vi ci siete trovati, oppure se magari avete provato altri prodotti di questa linea Bimbi, fatemi sapere giù nei commenti così nel caso andremo a provare anche quelli. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e di compagnia. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!